Quindi lei conosce perfettamente questa novità del nuovo processo tributario? Perfettamente, è una prova grossa, però cerco di stare aggiornato, certo, anche per dovere per chi mi ha nominato in questo ruolo. Ecco, in questo ruolo qual è il suo pensiero per questo nuovo processo e soprattutto per quelle che sono le novità? Diciamo che è stata una riforma necessaria, una riforma che è venuta al momento giusto perché il processo tributario che ha una sua regolamentazione nel Decreto Legislativo 546 del 1992 è stato opportunamente adeguato con l'introduzione della prova testimoniale scritta. Non so fino a che punto verrà sfruttata perché è stata clonata dal processo civile, dove non ha avuto molto successo sinora, però è una piccola introduzione che rende il processo tributario al passo col processo civile e soprattutto tende a eliminare il cosiddetto bisinidem, cioè la contemporaneità del processo tributario così tale, chiamiamola amministrativo, e il processo penale tributario. La uniformità di raccolta delle prove nell'uno e nell'altro rito dovrebbe eliminare il bisinidem, cioè significa il contribuente che è chiamato a rispondere di un reato tributario allo stesso tempo di un accertamento tributario per lo stesso fatto rischia o ha rischiato in passato di avere due sentenze, spesso anche contrastanti. Sono stati apportati degli aggiustamenti che dovrebbero evitare questo disguido, quindi benvenga. In tutto questo è stato fatto anche un concorso per i magistrati, per avere dei magistrati che si interessino di questo settore. Quella è una grande svolta secondo il Ministero, che qui è il Ministero di Economia e Finanza, non è il Ministero della Giustizia. Attualmente i giudici, chiamiamoli onorari, molti sono magistrati di altro campo, civile, penale, addirittura anche di DDA, sono 2.500 in tutta Italia, di cui la metà liberi professionisti. Adesso il Ministero ha calcolato che con magistrati a tempo pieno, cosiddetti professionali, ma non perché quelli attuali non lo siano, saranno 546, quindi 546 per il primo e secondo grado in tutta Italia, quindi un quinto di quelli che sono adesso. Solo che verranno reclutati con concorsi, ne è stato bandito uno, se ricordo bene, per 200 posti, fino al 2030. Quindi se questi saranno i tempi, un concorso ogni anno fino al 2030, prima del 2031 non avremo questo sistema a regime. Però con magistrati a tempo pieno dovrebbero velocizzarsi i tempi e fornire al contribuente una risposta adeguata e immediata alle esigenze del stesso contribuente.